Il sindaco di Giulia Nova, Ivan Costantini, ha firmato un'ordinanza che mira a tutelare il decoro urbano e la sicurezza delle persone nell'area della stazione ferroviaria. Il provvedimento vieta la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle 7 alle 11 in un'area che comprende Piazza Roma, la statale 16, dell'intersezione con via Matteotti a quella con via Lepanto, nonché quartiere ridosso dello stesso tratto di viaturati, la violazione di quanto disposto comporterà una sanzione amministrativa di 250 euro. Sì, abbiamo ripetuto un'ordinanza che era già in essere, l'abbiamo allungata, visto che era scaduta, ma ripeto, è un'ordinanza che addirittura aveva anche preso il mio predecessore, il sindaco Mastromauro, perché soprattutto la mattina abbiamo diversi pazienti, tra virgolette, che si regolano al certe che frequentano la stazione e vogliamo evitare che possono consumare alcolici nel momento in cui tanti ragazzi si regolano alla stazione per recarsi a scuola. Quindi è un'ordinanza che, ripetiamo, assolutamente doverosa e condivisa anche con i bar che gravitano attorno alla stazione. Lì però da tempo c'è una situazione molto delicata, a volte si è intervenuti anche con le forze dell'ordine. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, che era incrementare il servizio di vigilanza con le telecamere presenti alla stazione, siamo convinti dell'ottimo operato che stanno facendo le forze dell'ordine e speriamo appunto che si possa da qui ai prossimi anni parlare di una zona un po' più tranquilla.